Voglio dire, ormai non ce la farai giocare nessuno, oppure se vogliamo chiedere a federazioni di farci giocare la partita, ma in questi tempi non sembra il caso. Ma poi la partita non ce la fanno ripetere sicuro, quindi ormai è andata così, è inutile recriminare, bisogna soltanto lavorare su quello che è stato. Però ci sono state due o tre disattenzioni veramente gravi. È un avversario abbastanza complicato e quindi niente, noi abbiamo la volontà di fare il risultato e questa è la cosa più importante. Sì, c'è Saveriano, ringrazio la società per aver messo a disposizione un giocatore così importante, tra l'altro un calciatore col quale mi lega un rapporto umano, prima che tecnico, molto forte e quindi sono veramente contento di questo sforzo fatto dalla società. E' un giocatore che fa parte di questa squadra per qualità, poi ci sono delle esigenze che vanno di volta in volta e quindi voglio dire, l'esigenza è Mantini, voglio dire la partita scorsa ha dato il cambio a spighi qui con il sud di tiro, ha fatto gli ultimi 15 minuti molto bene. E' un giocatore di grande presenza e quindi da grande affidabilità e Cristian è un giocatore importante per altre cose. In quel momento della partita soffriamo tanto e credo che poi se magari all'ottantunesimo tutto il contropiede portato a tutto campo da Mantini è concluso con un passaggio di Mantini a Zecca, facciamo gol e diciamo che Mantini era il cambio giusto, ma purtroppo il calcio fa così. Sono contento sia per Infantino e sia per la società che ha preso Infantino perché il ragazzo è una persona importante, speciale da un punto di vista umano e quindi credo che per questa piazza sia l'ideale perché è un calciatore e un uomo di grandissimi valori. Sì, credo che sia una squadra in fiducia, che sia una squadra in fiducia e comunque è la seconda, terza in classifica, perché lì guardo proprio la classifica su e quindi non so neanche dove stanno, però è una squadra da rispettare, ma noi dobbiamo tenere presente dei nostri valori che in questo momento sono importanti e quindi andiamo avanti convinti della nostra forza. Grazie a tutti.